Sono in Dibiada al 1997, ho iniziato questa esperienza come disegnatore AutoCAD e adesso sono responsabile della parte di telefonia mobile e coordino una serie di attività a livello nazionale su tutto il territorio. Noi come attività facciamo sia dalla progettazione per le presentazioni delle pratiche agli enti, la ricerca delle posizioni dove mettere le installazioni e le stazioni radiobase, a tutta una serie di attività di analisi di impatto elettromagnetico, progettazione esecutiva, direzione ai lavori e tutte le attività in eventi della sicurezza di cantieri di telefonia mobile. Inoltre in questi anni, in questa esperienza abbiamo fatto e forniamo ai nostri clienti che sono da Vodafone, Team, 3, Wind, tutti i gestori di telefonia e tutta una serie di servizi oltre a quello che è, diciamo, l'attività classica dell'ingegneria e della sicurezza. Quindi facciamo consulenza, quindi abbiamo delle persone, i propri clienti ci chiedono delle persone da fornire e quindi lavorano presso le sedi e gli uffici dei nostri clienti, a stretto contatto con gli operativi, fanno attività di analisi di impatto elettromagnetico. Abbiamo fornito e siamo, diciamo, leader in questo settore grazie anche alla sinergia che riusciamo a fare con i nostri cugini, chiamiamolo così, di DBA Lab e Actual nella realizzazione dei software dedicati, quindi tutti i processi che noi gestiamo come DBA Progetti li riusciamo a procedurializzare attraverso dei portali dedicati web-based che vi siedono presso i clienti. Altre attività che facciamo nell'ambito della progettazione sono tutte le progettazioni di fibra delle grandi città e tutto quello che è inerente, diciamo, il collegamento della fibra ottica per, in questo momento, principalmente per i clienti Open Fiber. Devo dire che lavorare in DBA Group significa lavorare in un ambiente giovane, dinamico e ricco di opportunità.